Come sono le reazioni all'interno con Virginia Raggi? Ragazzi siamo felici, per noi è una battaglia che parte ormai dal 2008, forse non ce l'aspettavamo neanche noi, eppure c'è un paese che è il paese Italia che è pronto a cambiare, quindi in barba chi pensava di tenerci con la testa sotto la sabbia, siamo pronti ad alzare la testa e ad andare avanti per un cambiamento.